video tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo qui con il nuovo episodio del podcast a questo giro con vincenzo cipolla che settimana scorsa è riuscito a vincere il side event di edison al nazionale italiano vincendo la giant car detto questo ovviamente prima di iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasy store il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di tutti i vostri prodotti retro format hanno visto hanno la ristampa di load l'hanno messa sempre vendita quindi se volete acquistarla e ovviamente usufruire di un piccolo sconto trovate il mio referral link e il codice sconto sempre qua sotto stessa cosa ragazzi il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto esotico hanno prodotto coreano e giapponese di yuki di one piece poi carte bandai gradate nel senso roba simpatica sia da sbustare che comunque anche da tenersi led quindi ovviamente se volete supportarmi e nel contempo avere un piccolo sconto trovate anche per lui il referral link e il codice sconto sempre qua sotto in più se volete liberati di carte di yuki magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo adesso facciamolo entrare ciao vincè diciamo che questa intervista mi fa un po strano perché sono tipo più di dieci anni che ci conosciamo e ti ho visto cambiare tantissimo però vabbè visto che com'è andato come sta andando il tuo percorso ultimamente come pro player di retro format secondo me necessitava di fare questa chiacchierata intanto prima di iniziare ciao verico ciao allora vorrei che mi raccontassi un po di te dei result che hai fatto in passato con lo standard e quelli che stai facendo attualmente con Edison e Got ok allora intanto ti ringrazio per avermi invitato qui per me è un onore come dici tu ci conosciamo da una vita siamo della stessa zona però nel senso negli ultimi anni ci siamo persi per tanti ragioni però adesso ci siamo ritrovati sono felice di queste quindi intanto ti ringrazio per avermi invitato sono Vincenzo Cipolla ho giocato a yuki per tanto tempo diviso in tante fasce da adolescenza mi sono fermato ho ripreso nel 2015 dove ho cominciato a fare i primi di result ho fatto top 8 nazionale 2015 top 16 nazionale 2017 e top 32 nazionale 2016 quindi tre nazioni di fila qualche bolla in YCS in realtà anche anche gli anni passati nel 2012 feci persi l'ultima per la top all'europeo quando c'avevo 17 anni sono del 95 quindi comunque ballavo lì però non ho mai raggiunto magari un traguardo eccelso nonostante la top 8 nazionale ai tempi secondo me era un traguardo difficile da raggiungere però diciamo che il mio impegno era sempre più o meno poco continuo e ho ripreso a giocare a yuki diciamo ormai da 2-3 anni cominciando inizialmente con GOAT con gli amici tornei che si svolgevano a Ancona la città in cui abito poi abbiamo scoperto due anni fa l'esistenza di un circuito retroformat con SDG e abbiamo cominciato a fare i primi di negozi dall'anno scorso è nato diciamo che è esploso il fenomeno di Edison che è un formato che più è vicino a me in quanto ho giocato ai tempi effettivamente quando Edison era avanzato e mi ha preso mi ha preso principalmente perché c'erano persone accanto a me con cui condividere questo perché comunque ritornare a Yuki non so ci sono tornato quando avevo 27 anni nel senso può sembrare anche un'età avanzata per ritornare a Yuki però è rispronato al fatto che comunque avevi delle amicizie con cui condividere allora abbiamo ricominciato a giocare Edison e mano a mano ho scoperto prima il giro di SDG poi tutto quello che riguarda l'online e mano a mano ho cominciato a fare i primi regionali tra l'altro ho cominciato vincendo il primo regionale nel senso ho ripreso le carte dopo X tempo e ho vinto e da lì in poi negli ultimi un anno e mezzo che ho giocato ho vinto circa 8-9 regionali quasi tutti quelli che ho fatto ne ho vinto 8-9 su 12 anni circa in quest'anno da gennaio in poi ho fatto 8 top a tonne da 100 più persone tra cui senza star qui a fare la conta tra un line offline tra cui l'ultimo è quello di settimana scorsa in cui ho vinto il time wizard Konami a Forlì vincendo la giant card del tifone interessante comunque a parte la top 8 anche all'epoca vincevi una price card da 300 euro probabilmente anche avessi vinto tutti i nazionali probabilmente la giant 10 che ti sei vinto ultimamente vale più della somma di tutto il resto sì sì ho vinto il triplo e penso di quello che ha vinto Muselli purtroppo cioè è triste da dire perché il mio torneo era un pochino più piccolo di quello che ha fatto lui però insomma dall'altra parte sono contento perché l'ho vinto quindi meglio così ma cazzo vuoi mettere un tifone enorme qua dietro? foil? no no ma prezzo bello è stupendo è stupendo sì 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 veramente bello e cosa ti ha fatto a cambiare idea in quei tipo 4 secondi che l'hai avuto in mano e ti hanno fatto l'offerta? il problema io l'ho immaginata questa cosa non perché dico vado lì e vinco ma perché tanto dici metti fantastici no? nel senso se vinci cosa fai con quella giant card? il problema mio principale è che ero in macchina ma ero in macchina con un amico e amici di questo amico quindi gente che non conoscevo portassi avanti portassi dietro quell'armadio di carta non era comodissimo quindi partiamo da quel presupposto là partiamo dal presupposto che avevo già l'esperienza del mio amico Castiglioni Marco e la Caturna che l'aveva vinta insieme a Daniele Stella un altro mio amico e che avevano avuto tanti problemi con il trasporto in quanto gli era stata data rotta poi spedita rotta di nuovo quindi mi sono detto ci ho pensato un po' e mi sono detto senza che faccio troppi giri rischio di rovinarla romperla eccetera per quanto è bella un bellissimo ricordo più riesco a venderla anche perché come ti ho detto la cifra di cui si è parlato è abbastanza alta e pensare che questo al di lì le fatti facendo un torno di Yugi secondo me ti fa ragionare sul fatto che vende la forza della scelta giusta però ecco era un bellissimo ricordo anche da tenere in casa come dici tu ho la foto che comunque è molto bella e però insomma sì sì nel dubbio torna a casa col portafoglio pieno la foto fatta pulito sì 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 poi vincere il torneo a me mancava perché ultimamente come ti ho spiegato ho fatto top a tutti i torni grossi tutti da vivo online tutti è un periodo della mia vita a livello di carriera di Yugi d'oro perché ogni cosa che faccio va bene sarà perché sono fortunato sarà perché un po' me lo sto meritando però sta andando tutto bene però mi mancava sempre vincere ho appena fatto una finale di un torneo online da 180 persone in cui il primo vinceva un bottomless da CP americano e il secondo a Stardust Ghost da CP americano e comunque sono due bombe però varia due o trecento euro non mi cambiava quello mi cambiava il levare l'osfizio di aver vinto un torneo dal vivo che è una cosa che boh volevo proprio a livello personale ok e ci sono riuscito quindi quindi capito vincerlo è stato emozionante diciamo che mi ha tolto il pensiero di portarmi dovermi portare la carta a casa come ricordo insomma ok ma sai qual è anche un altro punto è che effettivamente non hai vinto un torneo che è stato organizzato così questo è proprio ufficiale Konami cioè il premio era ufficiale Konami cioè c'ha quel qualcosa in più ti sa di evento vero rispetto a quello che può essere un torneo organizzato da SDG o altre altre persone assolutamente la cosa diciamo che l'unica pecca magari non è un trofeo perché tipo io ti parlo di quello nel senso che chiaro che tu vuoi vincere anche per guagnarci qualcosa però comunque quando ero ragazzino che andava tutto bene era un conto adesso che sono grande che ho una vita comunque un lavoro una vita stabile eccetera è più soddisfacente per me ottenere un riguardo personale e diciamo che avere un trofeo sarebbe stato carino come ricordo dell'esperienza in sé però ecco come dici tu il fatto che fosse ufficiale ha reso tutto molto più sentito cioè anche per gli avversari mi è capitato di avere avversari contro anche soprattutto nella top che magari non erano tremavano un po' per l'agissazione per l'ansia no non è sono sempre partite toss soprattutto se sai che poi alla fine ti stai giocando migliaia di euro più di più capito diverse migliaia di euro a quel punto chiaramente non è facile tenere i nervi saldi e essere focussati sul game no no ma tanto parlamoci chiaro chi gioca a Yugi lo fa per la gloria non lo fa per i soldi perché non esiste niente però sai per una volta che dici che il premio è allettante prende male prende male se non stai ben concentrato rischi veramente che missi una mossa e hai perso un sacco di soldi se parliamo di soldi tra primo e secondo variava quasi più di 1500 euro perché il secondo cos'è che ha vinto capito il secondo ha vinto la carta quella mid diciamo non quella giant ok sempre di tifone quella vale sì però se vogliamo dargli un valore capito se quella grossa vale 2k quella piccola vale 300 euro capito è veramente un sacco la differenza quindi qui lì ci può stare che senti un po' più l'attenzione per fortuna il fatto che ho un po' di esperienza mi ha portato a non sentirla sono onesto perché sono abituato ormai a fare partiti di questo tipo qua ma comunque ho giocato veramente per dieci anni tu lo sai insomma quindi almeno questo dettaglio me lo sono portato avanti dal mio passato no ma alla fine cioè molto probabilmente tanto il mazzo giochi quello da tempo ormai l'hai anche masterato visto che tanto il meta non cambia tra virgolette i mazzi sono sempre quelli le carte sono sempre quelle alla fine cioè impari quasi il mazzo a memoria e non rischi di misplayare sì è così la parte diciamo secondo me negativa del formato di un retroformat è che tu acquisisci della knowledge che ti porta ad avere del gap rispetto agli altri che possiamo chiamare edge quindi un vantaggio ma questo col passato del tempo va sempre di più a diminuire nel senso che me ne accorgo anch'io ogni torno che passa gli altri sanno sempre qualcosa in più rispetto a prima e il tuo vantaggio non incrementa di granché cioè percentualmente parlando diminuisce il gap e quindi mano a mano la gente impara cioè tu potrai avere qualcosa in più degli altri perché magari hai qualcosa acquisito da prima o comunque giocando con le persone migliori riesci a capire delle meccaniche che sono più forti rispetto a quelle degli altri però col tempo la gente arriva sempre più vicina a te e diciamo che è un po' la sfiga del retroformat tu sai che un retroformat secondo me la competitività ce l'ha un po' di anni e poi mano a mano svanisce siamo al secondo anno un anno e mezzo quindi ancora si sente il gap tra i giocatori forti forti e quelli ancora mid qualcuno sta crescendo però i giocatori forti sono ancora uno step più là per dire io quando ho fatto l'evento praticamente ho beccato uno che se vedeva che giocava da più tempo di me Edison e effettivamente conosceva quello che stavo facendo poi ho beccato uno che Edison non l'aveva mai giocato e io che l'ho giocato dieci anni fa sapendo cosa fare ovviamente sono riuscito a vince poi mettici che non ho dormito mai nell'ultima settimana mettici che il giorno prima non era al top della forma quindi diciamo che ogni tanto facevo le mosse e tipo mi spleghiavo perché pensavo una cosa ne facevo un'altra ma vabbè questo è un altro discorso infatti il giorno dopo non mi son presentato poi sì diciamo che la location non ha aiutato cioè io sono arrivato il sabato e mi è detto che venerdì era anche peggio tu lo saprai insomma però era pesante giocare in quelle condizioni cioè il sabato è stato veramente pesante soprattutto noi abbiamo cominciato dalle 17 quindi quando è veramente caldo è stato pesante affrontare la situazione il torneo in cui contesto quello non ha aiutato sicuramente poi come dici tu ci sono delle piccole variabili che possono darti qualcosa in più rispetto agli altri cioè nel senso del fatto che tu fossi stanco era un dettaglio che è importante nel senso che quando siamo tutti quanti lì che la knowledge è simile che la skill è simile avere quella cosa in più come aver riposato aver mangiato bene essere idratati può portare a quella concentrazione in più che poi ti permette di dare di avere un po' di vantaggio rispetto all'avversario però me conto anche su queste cose qua diciamo perché i tre formati hanno anche sfruttato in questo modo secondo me per raggiungere il risultato un po' più alto ma alla fine quanti eravate al torneo? quanti eravamo? eravamo 123 o 4 pochissimo sotto il turno in più per avere 8 turni insomma considerando che la gente era venuta lì principalmente per il main event e tutto il resto alla fine non è male un torneo da 100 persone sì sì non è male diciamo che dal vivo è il secondo torneo più grande perché c'è stato due settimane prima un torneo coordinato da DC le sono fiesta ed eravamo 150 ok e lì ho fatto top 8 erano 8 turni e poi nazionalistica l'anno scorso che eravamo un poco più di 100 questo qua è il secondo torneo più grosso però come dici tu era un contesto particolare perché era 4 League è un punto non comodissimo c'era c'era un nazionale di mezzo ma c'era anche un evento mi sa di One Piece quel giorno lì che One Piece comunque bene o male ruba persone attualmente ai Yugi e quindi ha portato questo ovviamente però come 120 persone per un torneo di Aison è una buona media attualmente diciamo che insomma i picchi sono 150 160 poco più poco meno poi dipende dalla zona in cui lo fai no 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 quello è ovvio speriamo che l'anno prossimo lo facciano o di nuovo a Bologna o a Rimini che Rimini sarebbe top pala congressi che bello però vabbè comunque a parte questo parliamo adesso dell'evento com'è andata durante i turni chi è beccato e nel senso fa a me un local report di tutto il torneo ok allora come dicevo prima è cominciato il sabato alle 17 eravamo 123 quindi 7 turni più top 8 perché chiaramente vogliono seguire il format che si esava una volta questa è proprio una strategia di Konami per tutti i retroformat in più c'erano 40 minuti no c'erano 45 minuti scusa e si usava la regola del tempo che si usa nell'avanzato quindi noi che giociamo in retroformat giociamo con le regole del tempo di allora quindi le turni ok 0 più 3 si fanno 4 turni in totale compreso quello attuale e poi finisce la partita invece abbiamo utilizzato la regola che si usa per l'avanzato cioè quando chiamano il tempo si finisce la fase in così e poi la partita è finita e questo è un dettaglio chiave in realtà perché nessuno nessuno compreso me sapeva come gestire con la situazione cioè ti ritrovi molto spesso e ti ritrovavi a stare sotto magari e dover correre a fare una cosa e non avevi neanche tu la tempistica adatta in mente per fare quella cosa lì e questo è stato un problema comunque erano 7 turni 3 partite del primo giorno e 4 al secondo e bisogna fare per forza 6-1 cioè con 5-2 non entravi questo era proprio matematico c'era anche il pareggio però ecco per fortuna nessuno ha pareggiato i tavoli alti quindi questo non ha influito e ho ho fatto 3-0 il primo giorno ho giocato contro Frog Monarch Blackwing e Mech quindi il meta era anche è stato abbastanza vario ho vinto a partite e tosse in realtà ho cominciato male come ho spiegato anche in un altro deck profile perché boh ero stanco ero lì dalle 6 e mezza in realtà perché ero venuto su un ragazzo dell'avanzato quindi me l'ho svegliato prestissimo però ho avuto anche la fortuna che serve in quei momenti e sono uscito poi a vincere 2-3-3 secondo giorno ho vinto 1 contro Mech che probabilmente è il matchup più brutto uno dei più brutti per Vayu quindi ero abbastanza soddisfatto poi ho vinto contro Vayu Turbo Miral Match di mio amico Eric Praticamente come ti spiegavo prima eravamo quasi ai botti e io non avendo in mente bene le tempistiche delle mie mosse ho giocato un po' troppo velocemente forse però non so quanto cambiava e comunque ho perso e l'ultimo turno ho vinto invece contro i Robit di un ragazzo che giocava avanzato che aveva fatto col torneo lì perché era lì però sapeva giocare Heidzone G1 mi sorprende perché gioca una versione di Vayu Robit con carte come truppa o un tuore non me l'aspettavo e mi sorprende vincere così e G2 la controlla bene G3 invece una perché prima pesco un Vayu che mi permette di fare attacco Icaro e poi pesco un Rico che macina un Sirocco che mi dà sia il Sirocco per fare Vayu dal cimitero che 3 Dark precisi per fare Dad dalla mano e quella partita la vinco così è stata proprio precisa entro 6-1 entro come sesto becco Giorgione in top 8 H Giorgione il Giorgio Flora che probabilmente era uno dei più forti diciamo che di quelli arrivati in top c'era lui e un altro che secondo me potevano essere i vincitori becco lui che c'era la Black Wing la prima apro perfetto faccio 8.000 danni con la mano iniziale e la seconda e la terza sono partite simili tipo molto lunghe grinding prima la vince lui la seconda vinco io quindi vinco 2-1 considerando la G1 che ho vinto facile e top 4 becco il mio compagno in distanza Pietro Fantini che per me era il più forte insomma di quel posto di quel torneo lì giocava anche da YouTube quindi abbiamo fatto un mirror match che ho vinto 2-0 però devo dire che mentre la prima l'ho giocata bene parecchio bene secondo me lui ha fatto un errorino probabilmente ma la seconda è stato molto fortunato perché lui ha millato tipo 15 carte non c'era nulla e questo mi ha permesso di controllare bene la partita poi anche lì è stato il fattore tempo perché mancava pochissimo e probabilmente quello gli ha messo un po' più di ansia del normale perché lui è giocatore molto forte e so che magari in quei contesti lì potrebbe avere più fatica solo perché non è abituato a gestirle e quindi ero sopra di left points ho vinto comunque in modo abbastanza tranquillo e in finale becco un ragazzo con Frog Monarch che non conoscevo però ti ripeto una volta che sono arrivato lì ero convinto di farcela perché è questione anche di mentalità però avevo giocato un trip più forti ero in forma mi sentivo sicuro col mio mazzo e la prima parto bene e praticamente mi faccio trap dash quindi guardo la mano io overestendo per fargli 4000 danni e 4000 il turno dopo ok quindi avevo 2-3 mostri però facendo sta cosa mi porta ad avere solo una carta in mano lui pesca e so che aveva regegy break quindi se settava regegy break qualsiasi mostro mi avrebbe distrutto avrei fatto comunque quei 4000 in più per vincere il turno dopo lui pesca setta 1 io pesco overestendo per vincere con regegy break e ha pescato mirro quindi praticamente è l'unica carta che non conoscevo quindi praticamente io perdo tutto rimango solo un caius in mano e passano un paio di turni in cui lui non attiva cioè lui top deck anche swap frog che gli permette di fare fusione miracolo quindi 2 top deck incredibili precise però non fa fusione miracolo temporeggia un paio di turni io riesco a pescare dopo un paio di turni brain control con cui faccio caius scavo in mano e vincere attaccando con caius è stato fighissimo perché praticamente quando lui ha pescato mirro forza me l'ha fatta intornavo a tutti i suoi amici e hanno tutti applaudito urlato così e quando poi ho vinto quel game ho urlato io ma tipo mi è venuto spontaneo nonostante mi è venuto solo la prima non tutto il match ma perché era talmente cioè quando mi ha fatto mirro ho pensato non è il mio torneo cioè ci ho provato perché ha pescato proprio forza di riflessa era proprio destino invece l'ho vinta e lì poi sono esploso e G2 proprio sono partito a mille cioè era proprio carichissimo lui è partito male però l'ho proprio dominata e ho vinto a zero quindi è stato fighissimo lì c'è stato il momento in cui tipo cioè mani nella testa mi giro penso da cazzo l'ho fatto davvero è successo davvero sono venuti due tre ragazzi a abbracciarmi è stato veramente emozionante ma più che altro come mai te la sei rischiata lì se non la conosceva settata? quanto è che cioè allora vai youtube il mazzo che fa giocato a volte ignorando le carte dell'avversario nel senso che gorze 1 falsa riflessa 1 tt 1 chiaramente non devi andare sempre all'in però se vai a probabilità io so che se taccò 20 volte di primo turno di etto 19 ho vinto una mi fa gorze ok forza riflessa cioè io conoscevo tutta la sua mano perché ho fatto trap dash shot e solo una carta non conoscevo cioè tu immaginati cioè lui setta uno e basta cioè perché idealmente se io sono molto sopra lui potrebbe settare anche se avessi pescato un'altra trap avrebbe settato rege key break più un'altra trap così potrà farmene entrambe invece è stata solo forza riflessa e al posto rege key break e io lì quanti percentuali c'era era un 1% 2% 2,2% che avessi pescato proprio forza riflessa una cosa lì l'avrei rifatta mille volte cioè nel senso anche perché ho evocato un altro mostro quindi ho cercato pure i tt a quel punto attacchi perché c'è solo forza riflessa che lo riportava in game e l'ha pescato capito nel senso l'avrei fatto mille volte perché statisticamente con lo spot lì lo vinco cioè non gli do la possibilità di pescare un'altra carta facendo una mossa più corta e non uccidendolo lì lì ci vado capito l'ha attivata quel turno l'ha attivata lui poi l'abbiamo io l'ho chiesto chiaramente quando poi perdi per un errore non è bello sentirti dire da un altro che hai sbagliato a fare una mossa quindi ho cercato di dirlo proprio un po' cioè secondo me gli hai fatto perché non hai fatto cioè miracolo l'ha restito sicuro lui hai fatto non lo so non mi sono fidato ho sbagliato cioè nel senso credo che l'errore sia stato non essere riuscito a gestire il momento per lui no magari preso dall'ansia dallo stress cioè da tante dinamiche che potevano accadere in quel momento lui aveva una zeta in mano cioè una miracolo in tua zeta che non ha attivato perché voleva tenerso ma addirittura lui ha pescato swap e poi ha pescato pure sapsito le sue pescate sono state queste qui quindi ha fatto swap poi ha fatto anche la lock e mi ha lasciato e mi ha passato con perché io ho pescato RFDT il turno dopo che era auto win anche quella l'avrei divinta ma lui mi ha pescato anche sapsito con cui ha fatto dupe frog e unifrog e mi ha attaccato e mi ha rotto la trappa deciso capito a quel punto di prima ma avrebbe fatto 3000 più 3500 di absolute zero che sarei morto a mo' capito però lui non non se l'è sentita e diciamo che se l'avesse fatto perché lui ha avuto tre turni per fare il miracolo se l'avesse fatta gli ultimi due avrei vinto uguale perché pescando quel brain avrei fatto brain su absolute zero poi il mio caius l'avrei comunque vinto però è un errore palese G2 è partito malissimo però comunque aveva una miracola che non ha fatto però non sarebbe cambiata perché aveva veramente tutto però anche lì non l'ha fatta secondo me venendola da fuori insomma è stato più una cosa di paura sua forse la prima era cioè pensava di essere talmente tanto in vantaggio che non voleva rischiare di un possibile ribaltamento e avere cioè la carta per ribaltartela di nuovo sì però in quei contesti là secondo me sei talmente in vantaggio che allora devi cominciare a pushare cioè tu devi levarmi la possibilità di pescare nuove carte e se tu cominci a far danni chiaramente me ne dai il meno possibile se invece il tuo beat 1000 danni di swap o 400 di un refrog io c'è caso che vado a pescare anche due o tre carte e comunque lui stava a 3000 circa quindi io con veramente con un push normale cioè un brain un dad che erano tutti tutti liberi avrei vinto una partita che avevo perso da turni credo sia un errore io ti direi che non ha saputo gestire risorse in quel momento lì ok è semplicemente quello e la seconda terrorizzata ha proprio la la paura in faccia nel senso secondo me ha sentito questa poi magari vede il video scrive sotto no sei scemo però secondo me un po' ha sentito ha patito anche il fatto di aver perso la prima su quello sì beh sono cioè scuola di pensiero nel senso te prima hai detto c'era solo una settata sono andato all in e lui invece non si è fidato di andare all in quando poteva a te non l'ha graziato prima a lui non l'ha graziato dopo sicuramente il mazzo incide un po' va youtube è il mazzo che a volte secondo me chissà giocare bene questo mazzo e questo l'ho imparato ripeto da turna perché è la persona con cui testo di più in questo periodo in cui mi confronto di più siamo lo stesso mazzo e ho imparato a lui quando aggrare con va youtube youtube è un mazzo che sì ha delle robe per controllare come ricco e caius o le trappole però delle volte sai che devi estendere perché devi dare meno turni devi dare l'avversario possibile ok sempre giocate con ragione però chiaramente mirore una e trippato corse uno quindi nel senso devi pensare che la macchia parte a volte non ce l'avrai in mano probabilmente bene adesso parliamo del mazzo vorrei che mi spiegassi un po' la decklist e come mai hai deciso proprio di portare va youtube non tenue uscire con è il mazzo più forte quindi era quello da portare però c'è un'altra motivazione nel senso questa l'ho già sentita almeno da 50 giocatori di va youtube secondo me non è il mazzo più forte nel senso è uno dei due mazzi più forti dovessimo tirare una matita lista al volo direi Blackwing e va youtube sono i mazzi del meta ma banalmente perché da quando ti stai sono i mazzi che si dividono la maggior parte di partecipazione a top nei tornei con almeno 100 persone ti direi l'anno scorso ho giocato tutto l'anno vivo perché era un po' il mazzo iconico cioè io quando giocavo nel 2010 giocavo Blackwing eravo 15 anni giocavo Blackwing ci ho fatto anche il mio primo nazionale di Yu-Gi-Oh che ai tempi era ancora a qualifica quindi mi ero qualificato facendo i regionali con Blackwing l'ho giocata con l'evento lì l'anno scorso ho cominciato con quello perché era la roba di cui mi fidavo di più ho fatto buoni risultati però dopo un piccolo dopo un'up ci stava anche un bel down da cui non mi sono ripreso perché non me lo sentivo più mio come mazzo diciamo che vedendo adesso Blackwing è mazzo veramente difficile da sapere giocare a livelli altissimi attualmente secondo me una sola persona in Italia ci riesce e pochissime al mondo invece a quel punto ho detto cambio mazzo provo qualcos'altro è cominciato per caso è cominciato per caso la mia avventura con Vayu quando al YCS a Bologna ho fatto quote però sono uscito in bollo ho perso l'ultimo turno allora mi sono fatto un side event Edison quelli da 8 persone non avevo un mazzo perché ho prestato un po' di carte in giro l'unico che la pubblicavo a montare era Vayu Turbo tra l'altro senza oppression perché l'avevo prestata però l'ho fatto e ho fatto 3-0 in scioltezza di un mazzo che non ho mai giocato a quel punto ho detto questo potrebbe essere là per farmi avere il coraggio per cambiare mazzo cosa che prima non riuscivo a fare perché sapevo giocare tanto Blackwing nella mia testa faccio il primo regionale con Vayu Turbo a Cesena e arrivo in finale contro Turna e spettiamo perché comunque siamo amici alla tardi allora ho deciso di provarlo ancora testo faccio la regionale a Firenze e lo vinco da lì in poi nasce la storia di me con il Vayu Turbo nel senso che creiamo anche un team diciamo un team per la World League una competizione online a squadra con Nico Debelli e Celo Bacca che sono ragazzi con cui ho cominciato un po' più a testare e testando con loro il continuo da fare i regionali che vedevo di vincere mi sono deciso che Vayu Turbo potessi essere il mazzo più adatto a me e diciamo che così è stato perché quest'anno sta andando bene come dicevo prima sono abbastanza graziato perché tutti i stagini che faccio li porto abbastanza a casa con un buon risultato e l'ho fatto adesso il regionale Perugia sono andato in top 8 non l'ho vinto però capita anche di non vincere un torneo e mi piace secondo me è un mazzo più difficile a giocare rispetto a Blackwing perché Blackwing ha meno linee di gioco nel senso che Vayu Turbo con la mano puoi fare due o tre cose e devi anche essere più bravo secondo me bleffare le play perché a volte prendo le mani con Vayu Turbo pensi che anche carte che non sono impattanti subito come può essere con un Vayu con un Torre pure le effetti sono carte che comunque da prima non sono forti però saperle gestire saperle anche dar valori a carte così insomma settando un Vayu per poi sacrificarlo per un Kaius roba del genere ti permette di guagnare molto vantaggio sicuramente la cosa però più impattante del mazzo è che i top deck sono mostruosamente più forti degli altri mazzi cioè Vayu è un mazzo che anche se sbaglio una play delle volte ti dà una mano perché in mid game hai RFDT DAD Armageddon Burial hai Necro che praticamente è la millata il fatto di millare roba come un Torre Necro che vanno al di fuori dai regoli del gioco cioè Necro praticamente è come citare è rugito e minaccioso dal cimitero no è una cosa troppo che sposta però d'altro conto ovviamente c'ha anche qualche sfiga in più diciamo comunque apri delle mani meno ottimali rispetto a Blackwing bisogna saper giocare un po' meglio diciamo che la side insomma è meno impattante in Vayu perché le cartatoie sono minori perché diciamo che c'è un core che deve rimanere quello però in generale era quello poi mi divertiva cioè mi diverte molto e nonostante lo gioco tutte le settimane ogni weekend va a fare un torno fuori praticamente lo gioco mi diverto sempre perché c'ha c'ha mille giocate sempre cose diverse insomma ok sì ha un suo senso e mentre la decklist c'è qualcosa di particolare qualcosa di incredibile main extra side o è tipo la classica lista diciamo che ho provato a cambiare diverse cose cioè nel senso che in generale mi sono uno che cambia poco perché quando una roba mi funziona ha un significato nel senso che bisogna dargli valore soprattutto in mezzo che le carte sono quelle però il fatto che ultimamente avessi vinto qualche torneino mi ha portato anche a essere un po' più al centro dell'attenzione questo è una cosa che in Poe Nelson devi considerare perché la gente che bicchia è sempre la solita cioè cambia un po' però più o meno bicchi quelle persone lì e quindi sapere che tutti saranno sempre la tua lista può essere un'info anche positiva nel senso che esempio questa volta ho scelto di portare Attack Icaro di main che è diciamo una novità nel formato perché in my youtube non si gioca però è una carta che online un pochino si era giocato ultimamente e poteva essere una sorpresa una carta che nessuno si aspetta giocando contro i main che mi poteva far vincere qualche partita il fatto sta che è successo perché ho vinto proprio l'ultima partita della svizzera facendo un attacco di core fortissimo che ha rotto te lo dicevo prima ha rotto Absolute Zero e Specchio in Prisiona Ombre che mi ha permesso di ribattare un game che era strafinito e poi diciamo l'altra test può essere la profezia della trasmigazione di side che è una carta che non si vede molto usare anche questa da poco se si è presa è uscita però l'abbiamo provata e non ci ha dispiaciuto soprattutto per il mirror match col fatto che è una trappola tutti rispettano corvo DD da fare su Vayu su un tuore invece questa è una trappola quindi una carta che poteva risposta a Tifone e a Tempesta quindi fare anche quel vantaggio carte lì e in più rimettere i mostri nel mazzo a parte che sono due mostri anziché uno che sposta tanto ma rimettere due carte nel mazzo e quindi tipo togli sia Vayu che si rocco un tuore Vayu e poi nel mazzo quindi nel senso non sono rimossi non può farci RF di D non può rimettere con Burial era una carta che abbiamo notato nel mirror match potesse essere un po' impattante l'ho insieme da dentro diciamo che è la terza tech il Dragon Cireme rosso che non si gioca però l'ho provato ed effettivamente ogni tanto potrà essere forte contro certi matchup tipo Amaryllis che ammazza che ultimamente si gioca di più perché rompe tutti i token in difesa gli Amaryllis che tornano e più va sopra Titanium che in 2008 quindi con un attacco rompe tutto il board di solito oltre che contro Frog Monarch perché G2 di solito contro Vayu si levano a DoopFrog e quindi fanno una combo con DoopFrog che è Substitod che ti permette di attaccare a differenza di doppio e dubbo quindi attacando il Dragon Cireme rosso gli spacchi tutti i mosti in difesa e anche quello ce l'ha piaciuto quindi diciamo che ho parlato queste tre carte nuove che restano abbastanza standard ultimamente giocavo tre Kaius anziché due è una scelta che comunque non rinnego ma per me giocare tre Kaius due Kaius Icaro la terza prison sono tutte scelte molto simili ok quindi attualmente non cambieresti niente alla lista no la sto giocando uguale secondo me la lista in questi formati qua più che altro devi pensare a che tipo di metodi aspetti quando vai in un posto cioè in base a quello puoi cambiare qualcosina tipo ogni tanto metto due cyber drag di side e gioco con due cyber drag di side se mi aspetto i Mac o dei CB più quello però secondo me come ti ho detto adesso insomma è una lista che può vincere un torneo anche nazionale tranquillamente le carte sono quelle sono stramega testate quindi sei per certo che sono forti ok più che altro parlando di Mac ne ho visti un sacco lì all'evento io stavo giocando me ne sono trovati almeno sei intorno adesso non so se erano solo gli unici 6 Mac che c'erano però tutti avevano la versione quella con i Light Swarm quando effettivamente in passato io ho sempre visto solo quella con solidarietà poi si in top si è arrivati entrambi tra l'altro si sia quella con solidarietà che quella con i Light Swarm ok quindi è un nuovo wave nel senso è già non va a wave c'è un periodo in cui va un mazzo un periodo in cui va un altro e questo diciamo che non c'è un meta che varia poi ci sono delle wave che portano a far tornare nel meta un mazzo in questo caso è stato Mac perché soprattutto perché ha il torneo che c'è stato a Milano due settimane fa a Exxon Fiesta che eravamo a 150 ma ha fatto il primo e il secondo posto Mac e secondo me dovessi dare un motivo a questo è per lo più perché la gente se ne è un po' se ne è un po' scordato come mazzo e quindi hanno cominciato a levare i cyber draghi dagli meno peso di side e quindi chiaramente quello è un mazzo che se non hai la sede apposta può punire è accaduto quello insomma ma adesso c'è un po' questa wave appunto da questi ultimi sottati però dovessi dire io è un mazzo valido ma non è un mazzo che porterebbe un torneo cioè comunque ha tanto e tanto hate di side che poi ti fa perdere le partite contro un po' chiunque sì perché tanto nel pratico cioè si è accaduto il sistema che spezza il mazzo a metà poi c'è il cyber drago col chimera ecco quindi nel senso di che stiamo parlando sì sì ma oppression che cioè diciamo che la gente non sa magari neanche giocarci bene contro perché non lo vede di solito però una volta che sai bene come prenderlo come con Amarilli sono due mazzi molto forti però se sai come prenderli secondo me cioè non va a perdere la partita è lì capito make up fire oppression my cyber drago tappeto sono tante system down che magari puoi vedere un po' di meno però se il mazzo esplode si può giocare perché è una carta che vince da sola sì diciamo che è una wave che dura poco a mio parere perché poi blackwing e value turbo e anche frog monarch sono messo nella tria di edison sono mazzi più consistenti in generale quindi effettivamente adesso i mazzi del meta nel meta quali ci sono? Sierra 1 questi 3 blackwing value turbo poi ci metti come vuoi e poi frog monarch leggermente sotto e poi tanti T2 perché diva irobit è un T2 dragoturbo è un T2 lightsworn christiasworn sono dei T2 zombie è un T2 amarilli si è un bel T2 mech è un T2 questa fascia qua e poi tutto il resto lo metterei sotto magari mi si è scato qualcosa diva iro quindi diciamo il mazzo con malicius malicius grafer dad e altre cose e circa questo sì no irofrog l'ho messo bv value turbo e irofrog sono i 3 mazzi più forti del meta senza dubbio diva irobit è sceso perché anche chi la gente sta giocando contro si gioca più value turbo tipo l'anno scorso value turbo era un mazzo più in basso e nonostante poi tu nasciavi internazionale però era blackwing il T1 e forse c'era anche diva irobit in su modulo irobit è sceso sono c'eri mazzi nuovi perché amarillo non c'era perché mech non si giocava perché dragoturbo non si giocava così tanto e questo ti fa pensare che un po' ci sia della novità anche in un formato retro e questo perché lo uso come aggancio anche per dire la differenza tra edison format e il 2010 è che la gente acquisisce un sacco di knowledge e scambia la knowledge ai tempi io ce l'avevo ma avevo 15 anni ma anche ne avessi avuto i 20 non avrei avuto le informazioni come le ho adesso in maniera facile tu ora apri un discord server uno di quelli in cui si gioca online e hai un milione di replay di game fatti un milione di analisi apri tutto ben milioni di video di gente che testa e testa tutto il giorno e questo ti fa capire da subito quale può essere il meta cosa può essere forte cosa no poi c'è sempre un po' di spazio per la sorpresa perché ogni tanto c'è qualcosa di nuovo però chiaramente ora hanno la possibilità di avere tutte le informazioni ai tempi nostri no ai tempi nostri c'era arrivano le liste dall'America c'era anche i tempi qualcosa lì però al massimo cioè tu avevi la lista ma non sapevi il perché non avevi tutta la scelta che avevi adesso molto spesso ci si dava più sul testo in personale tu considera anche che cioè è un formato che si testa da due anni diciamo all'epoca quanto è durato quel formato sei mesi quindi sì 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 neanche perché poi c'è l'uscita l'espansione non mi ricordo il nome quella con gli inferniti ah ok non era CSOC non me la ricordo adesso sì il quale ha cambiato tutto il meta quindi nel senso ma poi io ho parlato anche con Merli che ha vinto il nazionale di GOT lui ha detto che praticamente è evoca mostro grosso bitta finché l'avversario non si arrende adesso GOT non è proprio così no anche GOT è cambiato è cambiato tantissimo infatti quando testi così tanto una roba alla fine qualcosa tiri fuori sì sì questa cosa è molto è anche eccitante secondo me nel senso che sono curioso di vedere col passato del tempo quando usciranno nuovi formati perché tanto sarà così io penso che fino al 2015 ci può essere ci può essere insomma retroforma poi sarà un po' più difficile e provere come si sviluppa cioè nel senso noi che l'abbiamo vissuti vedrei quali poi potrebbero essere i tier 1 insomma i tier 2 rispetto a come era una volta ma tanto il prossimo sarà Tengu e faranno per uno di quei mazzi anche per quelli della versione turbo finché a un certo punto non arriviamo al livello di ok già il turbo il turbo di quel mazzo esiste perché ci sono già 15 anni di storia di Yugi comunque a parte questo tu attualmente preferisci GOT o Edison allora GOT o GOT l'ho amato un sacco cioè forse era condensato al fatto che c'era solo quello ai tempi diciamo che con Edison ho trovato più una cosa che assomiglia se il mio modo di giocare nel senso che ho smesso Yugi nel 2017 perché non lo sentivo più mio cioè al di là del fatto che magari era anche sceso un po' la passione però erano sciti Link e non mi sentivo più di giocare a Yu-Gi-Oh che mi faceva stare attaccato al gioco e GOT forse è più in quella direzione di rispetto a ese nel senso che parliamo di primaz che del post però GOT è un modo di giocare talmente lento che è anche esso lontano dal mio stile di gioco cioè dal mio Yu-Gi-Oh dove si definito a livello temporale ti direi 2010-2016 come arco cioè ok quindi che è un mix tra stallo completo e x mila cose in un turno quindi direi per quello Edison poi il fatto che sia variabilità a livello di carte ti permette anche di avere più divertimento nella deck build insomma per quanto con c'è nel formato ovviamente però nella deck build anche nella varianza di cose che puoi beccare perché per quello è stimolante cioè chiaramente a livello competitivo il fatto che siano pochi mazzi avvantaggia la competitività perché una cosa è prepararsi contro due o tre mazzi una cosa è prepararsi contro quindici cioè lì aumenta il fattore randomico però in zona fine non è tanto così perché i mazzi sono tanti sì sono molto più che in got e chi dice contrario aumenta però si assomiglia il livello di cose che fanno tu sai che tipo pression copre 5 6 matchup tv ne copre 5 dust ne copre 4 e quindi bene o male si semplifica anche la costruzione della site ti direi che sì attualmente ho provato anche un po' tengo tra l'altro però devo ancora esplorarlo quindi non ti so dire ma guarda tanto la gente dell'età nostra tanto tu ce ne hai 29 io ce ne ho 27 i punti massimi del nostro competitivo è l'era sincro e l'era exisa tanto il periodo è quello certo quindi quello più divertente quello di cui abbiamo più ricordi quello che c'è anche perché magari il fatto di fare 5 exisa era più speciale no? cioè io ne provo l'altra volta evocare un sincro in exisa è più appagante non solo perché lo stai evocando ma perché spostare più la partita mo tanto è così oggettivo credo cioè i link li tiri cioè nel senso che ne fai 8 in un turno 9 in un turno per fare una combo hanno meno valore c'è il sincro di intermezzo no il link di intermezzo che me ne fa tirare un altro che me ti fa tirare un altro ancora e poi poi si arriva barone quindi sì 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 in edison quando fai stardust c'è un impatto notevole cioè è una carta che ti crea davantaggio dark and dragon tu sai che lo evo chiede un più uno non ci sono tante carte in edison che fanno più uno e quindi qua c'è un altro tipo di black rose è una carta che spacca tutto c'è una meccanica incredibile in un formato come edison tu sai che quando lo fai stai cambiando un po' la partita e questo è appagante secondo me cioè è anche più strategico chiaramente il formato nuovo per me è un formato stra intelligente stra competitivo un po' l'ho seguito perché ho anche diversi amici che ci giocano e so che non è per niente facile anzi è poco aperto a nuovi giocatori secondo me per quanto è complicato più i testi di carte lunghissimi le meccaniche nuove eccetera e quindi non ne parlo male ne parlo molto bene però i zone format o format insomma di quegli anni là pavano un po' più secondo me la sì la la big play cioè perché sai che sposta di più semplicemente cioè anche il fatto che non sono entrato influisce no perché devi tosare per quanto a me piacciono però devi usare le tue giocate anche in base al fatto che flop non può rispondere nel tuo turno salvo corvo dd e tu non puoi rispondere al suo con carta dalla mano ma sai una cosa io mi sono fatto sta riflessione ho parlato con alcuni ragazzi che gli dico parlando gli dice guarda a me piace anche il retro format perché comunque sono più lenti rispetto allo standard che per me risulta tanto pesante e loro mi hanno detto no a me il retro format non mi piace perché è lento e quindi mi dico probabilmente cioè il fatto che la società adesso sia più veloce e i ragazzini siano nati in una società più veloce a loro un gioco più veloce gli piace rispetto a noi che comunque ci siamo visti il gioco evolversi da evoco mostro passo a 14 summon per tirare per tirare 4 negazioni finale e quindi avendo conosciuto anche ragazzini che giocano competitivo anche Giada Mori che ha vinto il Dragon Duel all'ICS di Bologna lei giocava altri giochi di carte e si è approcciata tranquillamente a Yugi poi secondo me siamo noi che ormai siamo vecchi e non riusciamo più a stare dietro al competitivo ora questa cosa la dico sempre nel senso sono d'accordissimo secondo me ci stiamo sempre più abituando a un mondo veloce cioè è la circostanza che ci porta ad andare in modo più svelto nelle cose che facciamo e questo ha portato anche a un calo di attenzione cioè noi lo vogliamo le cose più rapide cioè perché vanno i TikTok e non più e molto mini video su YouTube perché la gente vuole subito il contenuto non vuole stare ad aspettare ore cioè come se sono un sacco di gente che vede video in 1,5 perché non può aspettare i 10 minuti deve correre questo perché è calata l'attenzione ho notato anche su me stesso nel senso che per tante cose ho l'automatismo che mi porta a dire devo correre oppure voglio tutto subito e anche Yu-Gi-Ohio secondo me ha preso questo ha subito questo effetto qua è un punto di ritorno cioè non torneremo più al discorso di ripensare che Yu-Gi-Ohio possa essere simile a come lo giocavamo noi e il modo per farlo è giocare a retroformat quindi per cui secondo me la Konami che sta cominciando a puntare su retroformat sta facendo un ottimo lavoro che dovrebbe migliorare però sta facendo un ottimo lavoro perché sta riavvicinando a sé anche tutto un pubblico di ultraventenni però tutto un pubblico che comunque ha perso e non avrebbe mai più riottenuto se non così insomma adesso non so se l'hai visto ma adesso mi sfugge il nome non so se è Rana Scambio Scambio Rana quella che era bandita quella rosa Scambio Rana Scambio Rana l'hanno fatta l'hanno fatta Secret è bellissima è incredibile sì l'ho vista quella già oia ma poi la ristampano anche adesso cioè una carta è uscita una volta sola no che poi è Rana Scambio no Substitut vabbè quella lì comunque ha una sola stampa costava 15-20 euro e poi ne fanno due nel giro di un mese perché uscirà anche la ristampa di lotta a breve però la Secret è molto figa è anche quella mi sa che è un'espansione che un boxettino me lo apro mi dà il po' gusto di trovare le ultimate ci sta saranno chissà come sarà Onesto Ghost versione nuova diciamo cioè se è appagante come quello vecchio secondo me non uguale sarà tipo le Ghost di Ghost from the Past e vabbè ci posso stare le Secret saranno come quelle moderne quindi la foilatura anche sull'attributo e le ultimate giuro che se fanno le ultimate della rarity io prendo il box e gli do fuoco davanti alla sede di conai no anche perché i lightsworn sono tutti strafighi cioè Celestia Laila Wolf cioè Wolf no Wolf non c'era Celestia e Laila però in primis le ultra rare cioè falle con l'ultimate nuova che è fake a mio parere ma fai la ultimate degli OTS e va benissimo così le differenze la rarità rimane ultimate bella e siamo tutti contenti altrimenti io penso che la gente prenderà quei box per dargli fuoco sì tanto il 25 ma non c'era l'ultimate vero ancora nessuna espansione quindi non possiamo avere successo dopo però all'epoca ristamparono i due list pack di Yugi e di Kaiba quando già le ultimate non c'erano più e le fecero come quelle da OTS infatti c'è il Chad con la foliatura ultimate anche nel bordo e poi anche gli Orkust gli ultimi che erano usciti sono bellissime però cioè io ho comprato adesso un solenne americano sono maestro figo cioè onestamente è una bella ultimate il problema è che quelle da OTS sono tanto leggere quindi si rovinano solo a guardarle quello è un po' il problema il problema di Yugi questo cioè il tipo di carta di Yugi ultimamente non so se è cambiato perché non ci ho più fatto caso con le ultime espansioni però è sempre stata la fragilità cioè se tu vedi negli altri tdc quelli usciti negli ultimi anni soprattutto della Bandai la carta è stra resistente no cioè stra resistente quelle di One Piece sono tipo spesse tre volte una carta di Yugi e sì è quello ne avevo comprata una che era un'esclusiva giapponese no un'esclusiva cinese l'ho tirata fuori aveva una sbeccatura qua in mezzo era è spessa quanto un mattone una sbeccatura con mezzo cavolo odio la Bandai per questo ma vabbè poi se ci fai caso c'è trovato tutto in Ermin cioè è difficile trovare le carti One Piece rovinate capito ti fa pensare che sono molto resistenti è successo che cioè me l'ha detto uno che colleziona One Piece se tu gradi una carta di One Piece e ti prende sotto al 10 gradata vale meno della Ro perché escono normalmente tutte perfette quindi è la certificazione che la carta è rovinata ma vabbè pensate che roba e comunque ultima domanda anche se mai in parte risposto cosa dovrebbe fare Konami per migliorare i retroformat per incentivarli per fare i soldi ok allora è difficile io credo che di base un'azienda che gestisce un competitivo di un gioco di carte per fare i soldi deve provare a portare la gente a comprare il prodotto cioè diciamo che non fai soldi facendo i tornei e portando la gente a giocare ma più quanto a vendere il prodotto cioè quando il prodotto singolo ha un valore e la gente combatte per acquisirlo il gioco ha vita l'agge vita e guadagna io credo questa cosa qua l'ha persa da 15 anni sembra di me il prodotto singolo di Yugi non vale niente purtroppo vuoi mercati esteri cazzi ammazzi insomma però una cosa che regge un sacco di Yugi è competitivo negli ultimi anni sai anche tu che se parliamo che su il nazionale i numeri sono stra aumentati stra stra proprio cioè io giocavo io ero a 700 ora sono a 1700 1800 quest'anno è sceso un po' non so bene perché forse per il fatto che ci sia competizione rispetto all'anno scorso è il fatto che non ci sono stati eventi quindi praticamente non c'è stata l'icesta Dortmund o da altre parti due mesi senza prodotti la location a Forlì che non era raggiungibilissima sono pari a pillo sono pari a pillo però in generale una buona massa di marketing è quella di dare valore a retroforma secondo me perché ci stanno mettendo vicino anche il discorso di fare delle ristampe chiaramente bisogna stare attenti perché spammare queste ristampe per me può essere anche un'arma doppio taglio cioè se tu fai perdere valore le carte che i correzioni stiano da anni lo uccide effettivamente il gioco fino a che lì bisogna stare attenti però creare dei tornei anche all'interno in parallelo altri tornei competitivi ti permette di avere più utenze che gioca al gioco e alla fine anche quello è un vantaggio per permettere al gioco di rimanere vivo anche solo a livello di numeri quindi per me c'è mettere anche creare proprio dei regionali infatti per il retroformat capisco che possa essere un attimo complicato anche per questione logistica però fare regionali continuiamo a mettere in card dei tornei perché spinge poi la gente a giocare sapendo che il monte premio è alto assolutamente così questo tipo qua regionalizzarlo sempre un po' di più ho capito bisogna fare un bel pack raggiallo con oppression secret il reddashot tu fai un prodotto del genere hai già vinto hai già vinto il prodotto va sold out nell'arco di una settimana si 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 diciamo che venderebbe poi lì di essere bravo a ricreare la pill perché la notte che levi dark and oppression è finita la festa ovviamente perché ma ci sono altre carte tipo dragon dark and dragon c'è la lana nera il synchro 8 stelle sono diverse carte che ancora costano decine di euro su quelle secondo me devi valorizzarle tanto adesso hanno ristampato la rana per dire cioè l'hanno ristampata e la ristamperanno quella tanto non è una carta che viene ristampata l'anno prossimo come può essere un hash probabilmente 3 anni non avrà ristampa 3-4 anni senza niente e quella risale perché ovviamente i giocatori ci sono i giocatori comprano la carta e ovviamente si escono dal market o poi si si ma infatti io ho aperto un box di battle of legend me ne è uscita una quindi non credo sia così facile a trovare i short print io so da quanto ho visto sbustando sia quella che snatch che sono le due carte dei retro format io le prendo subito nel dubbio appena le mettono in pre-vendita è quello cioè conviene sì a fine tutti faranno così e nel motivo per il quale il prodotto vale un po' meno però nel senso comunque dai crei un po' di app di vita al pacchetto insomma sì guarda se tu ci fai caso absolute zero che l'hanno messo come promo nei battle of legend capitolo 1 è già risalito stava a 6 e è arrivato a 12 quindi vuol dire che la gente è interessata a giocare nel pratico anche retro format sì ma retro format porta l'altro una volta che ne cominci uno dici vabbè cambia altre 4 carte 10 carte gioca anche l'altro vuoi cambiare cioè il fatto che ci sono tanti porterà le persone a giocare un po' tutti perché poi te puoi variare puoi scegliere hai sempre la possibilità di giocare perché magari un weekend vado a farmi got uno vado a farmi azzo un altro tengo poi farò hat e questo porta capito quanto montarsi un mazzo retro format costa veramente un prezzo imbarazzante una volta che ce n'è uno anche se fosse uno per ogni formato e poi la possibilità di giocare tutti i tornei che vuoi è già quello ti dà longevità a livello ludico quindi queste notti in media secondo me se la sanno sfruttare bene e massimizzare ancora un po' di più per me poi è una roba che può durare anche altri 8-10 anni no no ma parliamoci chiaro tutti i giochi di carte hanno i retro format adesso non so pokemon ma magic sì tutti e poi solo magic è una cosa che già fanno altri mi sembra l'ora di darsi una mossa e aprire a questa cosa stessa cosa come io mi lamento sempre ma pokemon tipo sono anni che fa le full art konami quando è che me le fai pure per i yugi lo dico sempre è una cosa che penso cioè quando fai le full art anche perché hai stampato 27 volte draga armato oscuro fammi uno full art l'effetto lo sappiamo tutti ma un artwork alternativo visto che ne hai fatte tipo 5 di carte con l'artwork alternativo fammi anche il dad ma è bellissimo la gente va fuori di testa se me lo fai anche di una full art full art art alternativi se ne potrebbe fare migliaia perché così sicuramente venderebbe fai con la follatura cosmolo di pokemon che non ha senso o ti ritiri fuori le ultimate fai un sacco di soldi ma sembra che i soldi a questa azienda facciano schifo ogni tanto sì piacciono le ristampe ogni tanto tirano fuori la novità però inventiva poca secondo me ci sta che pure dopo tanti anni si è persa un po' la fantasia e quindi un po' quello si è scemmato però vediamo insomma dai allora parliamoci chiaro non è che l'inventiva ce n'è poca e l'inventiva ce l'hanno ma non la applicano perché ci sono tanti bei prodotti giapponesi che da noi non arrivano le full art me le fai in rush duel non me le porti nel gioco normale cioè io ho visto una maga nera con uno stacco dei cosci che veramente ti tiro una sega subito ma vabbè sono quella carità quella pot of greed che sono veramente belle solo che i rush 2 sono un po' sono fatte diversamente no? no no la carta è uguale sono più dure più spesse non ci ho fatto caso mi sembrano uguali da noi retroformat di solito non si fanno usare quelle carte che sono sì sì sono un po' più spesse delle altre però sono belle cioè si potrebbero fare tranquillamente capito anche in un modello un po' più adatto a Yugi cioè diciamo anche a livello di qualità della carta però no però adesso non è una cosa che rientra nei loro piani fosse semplice parlarci è come parlare con un muro e va bene Cipo guarda grazie mille per questa checchierata mi ha fatto molto piacere soprattutto perché contenuti retroformat nel canale servono e chi meglio di te li poteva raccontare detto questo adesso spero ti andrà bene anche il nazionale perché comunque a breve c'è anche quello di SDG vediamo sì speriamo speriamo ti ringrazio ringrazio a te Fede per avermi ospitato qua è stato un piacere piacerone anche soprattutto perché mi hai tolto dalle greenfield il nostro amico Mattec troppi contenuti buoni mi stavo lasciando non si può grazie mille davvero speriamo di tornare qua allora a questo punto con un nuovo video dopo il nazionale SDG con stessa decklist va a youtube ovviamente perché non si cambia non si spoilerà vedremo va bene detto questo ragazzi grazie mille a voi per aver visto il video e noi ci rivediamo domani sempre qua sempre con un nuovo video ciao a tutti grazie mille